Ascoltiamo Papa Francesco nell'Omelia della Messa di Canonizzazione. San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II hanno avuto il coraggio di guardare le ferite di Gesù, di toccare le sue mani piagate e il suo costato traffitto. Non hanno avuto vergogna della carne di Cristo. Non si sono scandalizzati di Lui, della Sua croce. Non hanno avuto vergogna della carne del fratello, perché in ogni persona sofferente vedevano Gesù. Sono stati due uomini coraggiosi che hanno dato testimonianza alla Chiesa e al mondo della bontà di Dio e della Sua misericordia. Sono stati sacerdoti e vescovi e papi del ventesimo secolo. Ne hanno conosciuto le tragedie, ma non ne sono stati sopraffatti. Più forte in loro era Dio, più forte era la fede in Gesù Cristo, il Redentore dell'uomo e Signore della storia. Più forte in loro era la misericordia di Dio che si manifesta in queste cinque piaghe. Più forte era la vicinanza materna di Maria. Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Dottor bene bene.